Buonasera, sono Mia. Sono venuti i ragazzi italiani, con le botte, con le botte di gas, la benzina, per buttare, per bussare il campo, no? E infatti noi ci avevamo paura tutti quanti. Tutti i guanti fuggivano, non sapevano dove andare, con i bambini in braccia, non sapevano come fare. Io mi sono scocciata perché lui stava da due anni, voleva mangiare, non poteva uscire per prendere qualcosa per lui, ci aveva paura. Mi sono scocciata, sono avvicinata vicino alle telecamere, ho parlato un po' con le telecamere, con gli agenti, con la polizia, con tutti i guanti, per non fare uscire, magari per prendere qualcosa per i bambini, perché avevano paura di loro. Tutti i guanti fuggivano, io ho preso un po' di coraggio, sono scelta per prendere qualcosa per i bambini, perché lui piangeva, voleva pane, acqua, qualcosa per mangiare. Per colpa per una donna facciamo tutti i guanti il casino qua. Il bambino vuole mangiare, come faccio uscire? Deve parlare con la polizia per portare qualcosa per i bambini. Mi ha portato questa signora, il poliziotto, un po' di cornetti per i bambini dentro una busta. Ero non deve fare tutti i guanti, perché sicuramente siamo umani, come mai noi, siamo noi. Deve parlare in seguito con la polizia erotica. Grazie a tutti. Grazie a tutti.